Grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per la partecipazione. Ovviamente mi unisco anch'io a ringraziamento al Ministro Gianmarco Centinaio che sta per uscire, lo vedo ancora lì in fondo, al Sottosegretario Guidesi, al Capogruppo Senatore Romeo e agli amici, nonché colleghi, Senatore Bossi e Onorevole Piastra. Noi tre ci siamo sempre, nel senso ormai nell'ambiente è abbastanza noto che fin dall'inizio della legislatura ci stiamo occupando, credo con serietà, di un settore, quello della pesca, delle acque interne, in cui crediamo molto. Con l'Onorevole Piastra, infatti, e il Senatore Bossi, abbiamo presentato fin da luglio 2018 un disegno di legge molto più corposo, in parallelo sia alla Camera che al Senato che, pensiamo, possa diventare una specie di legge quadro per l'intero settore della pesca sportiva e, solo per un discorso di calendarizzazione, è partito prima dal Senato, ma è sempre stato fatto all'unisono sempre da tutti e tre, per quanto riguarda la parte appunto parlamentare. I tempi però di un DDL come il 695 sono tempi che sono lunghi, si sono allungati anche in funzione delle audizioni che sono state fatte e degli incontri attraverso i quali abbiamo ascoltato praticamente tutti i portatori di interesse. I lavori stanno procedendo e tant'è che ci saranno diverse modifiche da fare a questo DDL, ascoltando soprattutto le regioni che avevano le loro ragioni e anche i vari portatori di interesse. Adesso valuteremo se riscrivere completamente il testo e presentare uno nuovo o emendarlo. Comunque sta andando avanti il lavoro anche in commissione. Nel frattempo però è andato di fatto che anche in funzione delle modifiche apportate dal Decreto Emergenze in Agricoltura che avevano depotenziato l'articolo 40 della legge 154 del 2016, non solo per le acque lagunari come era intenzione, ma anche per tutte le acque interne, abbiamo reputato che fosse urgente intervenire per anticipare una norma che fornisce una risposta immediata a questa tematica e fornisce gli strumenti adeguati per andare a contrastare il braconaggio dei fiumi. Ecco quindi che abbiamo presentato questo DDL, il DDL 1335-1335, che è un disegno di legge snello e mirato, che è già stato incardinato infatti in commissione, stamattina è stata fatta un'audizione. Non vedo più i rappresentanti delle forze dell'ordine. Auspichiamo comunque che possa avere, come abbiamo già detto tutti, un ITER molto rapido, la speranza veramente che possa andare in aula già la prossima settimana. Faremo di tutto per cercare di riuscirci e ovviamente dipende un po' dalla volontà di tutti, come diceva giustamente il capogruppo Romeo. Per quanto riguarda l'analisi del DDL 1335, è, come dicevo, molto snello, è composto di un solo articolo che è diviso in tre parti, con dieci commi e un allegato. Nello specifico il comma 1 identifica, individua assieme all'allegato, l'elenco dei grandi laghi e i laghi minori, in cui è permessa la pesca professionale, seguendo determinate regole rigide. Il comma 2 descrive le modalità della pesca vietate nei luoghi dove la pesca professionale è permessa, vale a dire cosa non si può fare in laghi, acqua e salmastre e lagunari. Il comma 2 bis descrive invece le modalità di pesca vietate dove anche la pesca professionale è vietata, ovvero in tutte le rimanenti acque interne. Il comma 2 ter elenca alcune eccezioni di divieti di pesca. Il comma 2 quater prevede la possibilità di deroghe per le province di Trento e Bolzano. Il comma 3 specifica il divieto di trasporto e commercializzazione degli animali bracconati. Il comma 4 individua le sanzioni per le tipologie di bracconaggio più gravi, che sono il prelievo degli animali protetti, l'utilizzo di esplosivi, l'avvelenamento, l'uso dell'elettricità o la asciutta dei fiumi. Il comma 5 individua le sanzioni per le altre tipologie di bracconaggio, definiamole appena meno gravi, pur essendo gravi tutte, che sono l'uso di strumenti non consoni, quelli proibiti nello specifico luogo o quelli non conformi. Il comma 6 individua i casi in cui ha ammesso l'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato, degli strumenti di pesca, dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato, anche se non di diretta proprietà di chi viene sorpreso a bracconare. Il comma 7 definisce infine i casi in cui le pene possono essere raddoppiate. Io credo che questa sia una legge tanto semplice quanto effettivamente preziosa ed innovativa per l'intero settore. Credo che sia stato fatto un buon lavoro, dopodiché io mi fermo qua perché poi presumo ci saranno delle domande a cui magari risponderemo e vi ringrazio ancora per essere intervenuti. Grazie. 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 Grazie.